Così, man mano che se navegava, ci mangiavamo questa pasta appunto. Questo era un marinario che la faceva. La chiamava Tizzena perché lavorava nella nave di Tizzena. I spaghetti alla Tizzena sono pronti e pescati. Bene, cazzo, sto sognando. Io ho calentato un macroeco e il video ho calentato al nuovo punto quando faccio il clou. Perché io non lavoravo a quanto segnano e a fare il livello. Bene, cazzo?